Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo regime, oggi siamo tornati sulla nuova challenge insieme a Luke Losser Allora scegliete un po' che non porto video, ma tranquilli che il canale è sempre attivo Allora, questa sarà una challenge natale contro Halloween Perché lui come potete vedere ha la skin di Halloween, io ho la skin di Natale Quindi faremo dei fight e vedremo qual è la festività migliore Ok, vabbè, qual è la festività migliore Io spero vinca il Natale, ma non perché sono io, ma perché Halloween Vabbè, è carino però Vabbè, comunque lo vedremo in questa challenge Come funziona? Allora, io potrò utilizzare le armi che abbiano almeno due colori diversi E abbastanza colorati, tipo l'assalto Rega, non c'entra nelle rarità Cioè io dico, guardate, prendo l'assalto, è nero l'assalto Quindi no, non lo posso utilizzare Però posso utilizzare lo scar, perché comunque è giallo Poi il cannemozze ha due colori, marrone e nero, quindi lo posso usare Però lui può usare le mitragliette, i pompa nuovi e così Prima andremo a fare il fight, diciamo tra virgolette a casa mia Anche il tattico io posso usare Vabbè Prima a casa mia, ovvero a picco polare E poi al castello di Montagnone, maledette Quindi, allora, ci mettiamo non so quanto tempo per luttare E poi partiremo con i fight Allora, facciamo che La jump la puoi usare? Il? La jump La jump? No, perché io non la posso usare Sì, la puoi usare te Io posso usare le trappole Comunque Rega, facciamo fino a quanto? A 58, va bene? Sono tre minuti più o meno Ok 3, 2, 1, parte la sfida Allora, ragazzi, mi sono scordato di dirvi che Se io vinco due round dei tre che facciamo Passo io Quindi Ne abbiamo fatti tre Ma se comunque uno ne vince due Passa Ragazzi, scusate Ma non l'ho detto Ok, rega La puoi usare o no? No, perché è marrone Cioè, tu di pompa sei messo un po' male Però c'hai comunque la mitraglietta Quindi Allora, rega, la pistolina Sì, perché è marrone Come potete vedere E va bene Allora Ok, un'altra pistolina Falò è usabile? Falò no, lo uso io Perché comunque Grigio e marrone I rametti Allora, rega Questo assalto non lo posso utilizzare Se ci pensate Comunque è abbastanza equilibrato Perché io non posso usare le mitragliette Ma lui ha pochi pompa Cioè, è un po' un caos Cioè, io non ho pompa Perché Sì, però C'è le mitragliette che fanno comunque molto male 5, 4, 3, 2, 1 Odio, rega, è già vicino Eh, ho pensato anch'io Rega, è vicino Qua Buono la K No, la K No, la K Però è grigio No Sì Troppo Lo voglio Vieno a prendere No, sono Vabbè Oh, oh Allora Rega, dov'è camperato Dove è camperato? Stagniamo i topi Eh, porco cane Ehi Aia che male Ah sta mitrailletta silenziata bianca non è che ci si va molto avanti Ah io ho tolto la pistola Spattoletto Rega un colpo del pompa Cambio di pompa Rega la k l'ho preso perchè c'ho la cosa automatica Sii Tretta di vita Rega il cambio del pompa C'avevo il nonno Comunque rega scusate soprire la k ovviamente non l'ho utilizzato Però ce l'ha raccolta automaticarmi Che me l'ha preso Però ovviamente non l'ho utilizzato Ok ragazzi partiamo col secondo round 3 2 1 via Lui c'ha il tricolpo che io me l'ero Corda E fa schifo il tricolpo Lo stai dicendo con uno che c'è la bianco Cacchio parti già in line ground Regali bibbato quelle pesanti eh signori Oh Si ma Questa si è avvantaggiato Si è partito da là Oddio Devo vincere che ci spostiamo comunque subito a casa sua Oddio No Mi hai chiuso Cos'è possibile Correa contro i colpi Quanto è bello però rosso Con la Ehi Eh dai No perché No C'è gb Oddio la mia vita Come l'hai piattata bene quella jump Eh no perché non ho saputo se c'è il colpo Ti ho preso No mi ha segnato il colpo Oddio sto per cadere Allora La Non lo vedo All'attacco Non lo hai lasciato lì dove l'hai trovato? Si si Raga vero che io le trappole le posso usare Io c'ho due colpi del pompa No c'è già la scala No c'è già la scala Ah ah che vuole No i colpi No No c'ero quasi Sì Cavolo non me ne ero accorto dei colpi Mi è venuto in mente dopo Far troppo danno quei pompa Ok ora Rega due Quindi a casa mia Ho vinto io E in teoria A casa sua dovrebbe vincere lui Lo vediamo fra pochissimo Perché ora ci postiamo a Montagnole Ragazzi ci siamo accorti solo ora Che l'han distrutto il castello Comunque sarà divertente lo stesso Allora Prima test Vediamo No No Io non ho trovato niente Io non ho trovato niente Ok Non ho trovato niente Ok Allora Qua un buonissimo tattico blu Poi una buona chest Con niente Se Luca c'è cieco Possiamo vincere Se Luca c'è cieco Possiamo vincere Facciamo che ai 50 partiamo Quindi fra poco Tu ci sei? Tanto Io non so proprio dove Non trovo Però va bene Ci sei? Ok Ti ho visto Mi allontano Via Ho visto Questo Era Colorated Quindi Colorated Allora Allora Dove può essere? Dove Può essere? Allora Facciamo un po' Sento che builda Ma non so dove Non posso più Lì Ah Ma qua ti ha pezzato tutto Cosa? Non ti ho preso una volta Neanch'io Ok Questa rega è colorata Allora Rega Rega ho smirato Dai fammi buildare Tuitato? Sì Eh? Tuitato? Ha fatto il suono? Ma cosa? Rega sono scemo Eh vabbè Sì ma Rega qua Sono stato scemo Aia Questo è sempre stato Quattro di vita Quattro di vita Quattro di vita Rega questa è fortuna Quattro Ma poi sono stato Doppio scemo Se perdevo Perché Mi sono tirato la granata In faccia Mi ero addormentato Ok ragazzi Partiamo Secondo round Era proprio qua in agguato Aia Ho finito i mazzi Ciao No No Perché hai preso anche a me? Cioè come hai fatto? Ma tu è di sopra poi Non lo so Oddio rega Io ho finito i mazzi No Non lo faccio Non lo faccio Oh Otto No Ho riuscito a scappare No Vabbè rega Giustamente Ci sta Questo pareggio Quindi L'ultimo round Sempre su questo canale Vabbè scherzo rega Ragazzi ci siamo Terzo round 3 2 1 Let's go Oddio Non mi può vedare qua Cacchio Eh Mi ho fatto Quanto faccio schifo Allora No Ok C'è ok niente Perché sono cascato comunque E noi Caraffone Non te lo lascio bere Ah Non ho fatto il tempo Ah Vabbè Allora sono un idiota Yes Ah I tried Vabbè rega Forse sì Non avere pompa È un grosso svantaggio Comunque Il castello è stato distrutto Era già tutto anticipato Comunque ragazzi Se volete Un'altra challenge Luca Secondo te Cosa vuoi fare? Tipo ringraziamento Contro Natale Oppure Perché ricordate che c'è il pollo Quindi io Con ringraziamento Posso farlo Boh Vediamo tutto rega Eh Contro Babbo Contro Babbo Sì Comunque Vabbè rega Lasciate un bel like Se arriviamo a 10 like O anche di più Spero E Porterò un'altra challenge Uno di questi giorni Rega Forse martedì Ci sarà un'altra live Sul prossimo aggiornamento Rega Dattemi fate tutto E Ciao We are the champions My prayers Grazie a tutti 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 Grazie.